Quest'anno si chiama Serie DNC. Il girone è sempre lo stesso I ed Aci Basket esordisce in trasferta già con un derbissimo sul fronte mediterraneo. Il 25 settembre si parte con Gela a Cireale. Nel primo turno ci sarà anche un anticipo, Vist-Reggio Calabria contro Paternò sabato alle 18.30. Prima gara al Palavolcana invece nel secondo turno, il 2 ottobre, contro Reggio Calabria. Start come di consueto alle 18.00. Coach Peppe Foti ci presenta la squadra. È una squadra che rispetto all'anno scorso ha un pizzico di esperienza sicuramente in più. Ci sono alcune conferme e alcuni ritorni. Tornano Di Dio che l'anno scorso è stato a Capo Orlando in B e Pietro Marzo che ha fatto bene a Ragalmuto l'anno scorso in C. E poi ci sono due nuovi, dei senior diciamo, che sono Luca Doati che è un ragazzo che ha tanta esperienza, ha vinto la Serie B a Fossombrone, ha giocato tanti anni in B dilettanti da titolare. È un cavallo che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a Gela e che l'anno prima ha vinto il campionato a Ceglie. E poi c'è l'innesto di un ragazzo del CUS che è Enrico Martello, che è un 94, che va nell'idea del network, cioè della rete e quindi della collaborazione, che porterà alcuni ragazzi nostri, 95, a giocare l'Under 17 l'eccellenza col CUS. E' Enrico che farà parte della prima squadra. Vittorio Balestrazi viene inserito in prima squadra un 94, insomma, ripeto, un pizzico di esperienza in più che ci dovrebbe permettere nei momenti più difficili, che sono quelli più caldi dei play-off, di poter stare in campo con un po' più di tranquillità. Un campionato che si presenta rivoluzionato, non ci sono le campane, del suo regolamento in generale invece rimangono confermate le linee dello scorso anno, quindi tutti i play-off. Sì, otto i play-off ed è un campionato che è anche decisamente più forte, perché ci sono molte meno squadre di Serie B, quest'anno ci sono solo tre gironi di Serie B, in Serie A direttanti, che si chiamerà quest'anno DNA, ci sono sei under, quindi molti giocatori sono andati a scalare di serie. E quindi non sarà semplice, è un campionato dove saranno presenti diversi giocatori che l'anno scorso giocavano in Quintet in B. Una domanda romantica, ma quando ti sei presentato al primo allenamento non hai trovato più Gigi Russo? Gigi Russo ormai era quasi un'istituzione, però nel basket come nella vita le cose iniziano e finiscono, cambiano, poi non è detto che non possono tornare, io sono stato tanti anni a Serie A, però sono stato via sette anni e sono tornato, quindi così come ho fatto io potrebbe succedere con Gigi, a cui sicuramente auguriamo il meglio. Come tutte le cose, ripeto, c'è un inizio e una fine, quest'anno è finita, lui farà un'altra esperienza fuori e poi, ripeto, non è detto che nel futuro non ci si possa rincontrare. Grazie. 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 Grazie.